Tutto ciò di cui rimangono vittime le persone che seguono, diciamo così, le persone. Eh no, mi ammazza sì, cazzo, costa caro. Ah, che bella collana, bella collana. Ciao ragazzi. Io faccio una diretta. Di cosa? Parlando su internet di tutto quello che le persone vogliono parlare. E cosa parliamo? Che non c'è lavoro, ragazzi. Non c'è lavoro. Ho 24 anni che non lavoro, ragazzi. Salentino? Io ho fatto tutto, siciliano. Di dove, della Sicilia? Catania, Palagonia. Ah, famosissimo Palagonia. Di Caltagirone, Mineo, Ramacca, Scordino. E quindi hai 24 anni che non lavora? Eh. È un po' tanto però. Eh, vabbè, che vuoi. Ma hai pensato di fare delle cose su internet per lavorare? No, non me lo intendo di internet. E lì si guadagna qualche soldino? Quelle cose lì. Però lei comunque non ha, cioè spero che lei faccia una vita... Io ho fatto di tutto. Tipo? Dal manovale edu, al barista, al cuoco, camionista. Ah. Ho stato nelle fabbriche a lavorare, pulizie nelle scuole. Interessante. Eh, cuoco. Ho fatto di tutto il soffio. E adesso riesce comunque a sopravvivere? Sì. L'importante è quello, che lei riesca a sopravvivere... Che hanno un po' qualcosa per curare avanti. Certo. E via. Certo. L'importante è che lei comunque sia felice, in salute. Non sono sposato, quindi. Ah, e quindi... Sono figli. Vabbè, ha fatto una vita un po' di... tranquilla. Sì, sono. Quindi... Tribulata. Beh, tribulata... Quindi è sagittario o è bilancia ancora? Scorpione. Ah, segno particolare. In 1953. Ah. E invece la collana l'ha presa a Pisa, leggo, giusto? No. Non mi ricordo più dove l'ho presa, guarda. Ah, perché segnava a Pisa. Sì, c'è scritto Pisa. Poi ne avevo un'altra di una ragazza che fuma uno spinello. Ah. E quella che fine ha fatto? Ha finito lo spinello, la collana? A caldo. In qualche parte, in qualche tasca di qualche giacca. Onesto. Devo cercarla. Certo, no, ha fatto piacere. Mi piacere perché era bella anche come collana. Certo, certo. Ah. Invece che tabacco fuma camel, vero? No. Fumo cesterf. Ah. O trinciato. Ah, il famoso trinciato. Quindi, l'importante, però la vedo felice e tranquilla. Quindi... Io invece faccio delle dirette su internet, dove parlo con le persone che mi seguono. E quando qualcuno vuole passare, dire la sua, si parla un po' del più e del meno. Dobbiamo dire che qui vogliono tutti gli specializzati. Eh, ormai sì. E nessuno li vuole specializzare, cazzo. Quello è vero. Intendono che la gente sappia fare tutto senza che nessuno che li imparca. Eh, lo so. E fanno avanti queste scuole del cazzo che si fanno strapagare, sti maledetti. Eh, sì. Eh, sì. Purtroppo qui cos'è che mi dicono? Eh, Chesterfield. Sì, esatto. Parole sante. Ha detto che le sue sono parole sante. Qui devono dare lavoro. Devono finire a rifare venire gente da festa. Ci hanno rotto la minchia. Siamo in troppi in Italia, cazzo. Non lo so. Il territorio è piccolo. Non credo che sia così, però accetto il suo commento. Cosa ne pensa della nostra terra? Perché io sono siciliano. Della bellissima Sicilia. Ma cosa vuoi che ti dica? Che all'epoca c'era pochissimo lavoro. Ah, pochissimo lavoro. E adesso cosa ne pensa? È una bella terra, raccomandabile? Tutto il mondo è bello. Tutto il mondo è bello. Bastate, non ci siano chi accumula le ricchezze a scapito del popolo. Tutto l'è. Certo. In Sicilia secondo lei c'è la mafia? Ma qualche mafioso c'è. Io al mio paese non ci mette, sappia io. Catania? Mai visti mafiosi a Catania, infatti. A Palagonia. Ah, a Palagonia. No, è a Palagonia. A 40 km da Catania. Allora no, lì non ci sono ovviamente. Comunque, no. Ci sta. Ma è fosi. Però vi... Si permette di farlo, perché sennò quando ti rompono i coglioni prendi una pistola. No, mi dissocio, assolutamente no. Ma questa è violenza, questa è violenza anarchia. Cazzo, se quello viene lì e ti rompe i coglioni... Ma mica tu uccidi una persona, ma mica puoi uccidere una persona perché ti da... Ma che cazzo gli fai? Lo mandi in galera. No, chiami la polizia. Se la polizia non funziona, che minchia fai? Gli dai i soldi... Ma così torniamo al medioevo però. Chi cazzo se ne fa? Ma come chi cazzo se ne fa? Mi dissocio assolutamente dall'omicidio. Eh, anche loro si dissociano. E dice, qui scrivono, non funziona. Ha ragione Fabio non dissociarti. No, no, mi dissocio, assolutamente no. È anarchia quello. Però se lei dovesse tornare a vivere... Lei preferirebbe vivere a Torino o in Sicilia? Onesto però, onesto. Io, beh, se c'era il lavoro, adesso sono pensionato. Se ci fosse il lavoro. Magari vado giù. Tutto in inverno sto giù ed estate vengo qua. Ma se ci fosse il lavoro lei tornerebbe... Ah sì, perché no, tant'è bella la Sissi. Le piace allora? Non ti porti bella. No, a me non piace. Sono delle spiagge. Io sono di Gela, provincia di Caltanissetta. E mio padre era di Nisieni. Eh, vicino proprio. Sì, sì. Mio nonno era di Gela. Ah. Era nato a Gela. Mia nonna. Bella Gela, eh. Non so. Non c'è la mafia Gela, eh. Mafia? No, lo so, va. Lo so io, non c'è, non c'è, raga. E Naomi Piedifatà. Ah, anche Naomi è siciliana. Ah, grazie dei cento, comunque. Eh, sta scrivendo, sta scrivendo. Peace and love and fit, Pompelmo. Grazie, Pompelmo. Grazie, grazie mille. Ciao ragazzi, buona sera. È stato davvero un piacerone. Grazie. Buonasera. Intervista sera. Me lo sarei fatto subito? Serio? Te lo saresti fatto subito? Pompelmo, Dio. Come stai, Pompe? Io qua ho fatto errore, però, lo stesso. Ora manca solo Lucio. Il Drago Freebooter? Vediamo, vediamo. È probabile che ci sia l'evenienza di farti vip, il Drago, ovviamente. Manca solo Lucio? Ho capito cosa intendi? No, non devi mai citare le persone che sono amato. Lo ho letto, il socio, cioè, è la regola. Hai chiesto l'unico per proteggerti in Sicilia? Esatto, no, mi esatto. Ho chiesto l'unico, ho proprio fatto così, la richiesta è stata, senta, siccome lei è di Patagonia, della Patagonia, posso avere la protection? Mi fa quando non ci stanno problemi? Vai, smichi, vede domani. Ha detto, vabbè, vede a me, non ti preoccupare. Mi ha detto, ok, va bene. Pompelmo sta bene, grazie. Poi pubblicherò il video insieme, ce l'ho salvato. e l'ho cancellato da Twitch. Drago Freemuter, vola! Drago Freemuter, vola! Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo! Diventerete famose! Ciao ragazzi! Ciao! Ci vediamo quando diventate ricchi! E famose! Vola!